Nel giro di qualche mese una compagnia di fucilieri della Brigata Sasseri, composta da 150 militari, sarà a distanza nella caserma di Prato Sardo a Nuoro. A questi si aggiungeranno una cinquantina di dipendenti civili della difesa. La struttura a questo pomeriggio è passata ufficialmente dal Comune al Ministero della Difesa. La cerimonia di consegna delle chiavi della caserma si è svolta nella sala consigliare del municipio di Nuoro, alla presenza delle autorità militari e civili della Sardegna. Lo storico passaggio di consegna, che pone fine ad un iter iniziato il 22 dicembre 1997 con la firma dell'accordo di programma tra Stato e Regione e Comune, ha visto come protagonisti il sindaco di Nuoro, Andrea Suddu, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano e il presidente della Regione, Francesco Pigliaru. Dopo un breve spazio riservato ai discorsi ufficiali, il sindaco Suddu ha consegnato simbolicamente le chiavi della caserma al generale Graziano. Quindi le autorità sono trasferite a Prato Sardo, dove c'è già una presenza di un'aliquota di soldati della Brigata Sassari, per la presentazione ufficiale della struttura che può ospitare quasi 200 militari, dispone di hangar, officine, armerie e palazzina a comando. Queste le parole del sindaco Andrea Suddu. Sì, questa è una giornata storica dove Nuoro accoglie l'esercito e accoglie le forze armate, adempiendo a un disegno che risale nel tempo al 1997. E in questa maniera non solo diamo il benvenuto alle forze armate nella nuova caserma di Prato Sardo, ma abbiamo la possibilità di riappropriarci in questo scambio che è stato disegnato tanti anni fa della caserma Loi dell'artiglieria, nella quale il comune di Nuoro sta disegnando il futuro urbanistico della nostra città. Per cui è una giornata storica doppiamente, da un lato accogliamo dei nostri nuovi concittadini, dall'altro ci riappropriamo di un'area che è strategica per la planificazione di una città moderna, più contemporanea, più green e più attuale.